Il primo ricordo di Sergio è quando facevamo la terza elementare, poi lui sparì perché alla quarta ha cambiato scuola, ho visto dopo tanti anni che avrò a casa mia a chiedermi di fare la musica per un pugno di dollari. I figli, feci quel film molto volentieri, ci fu un'idea che ho già in mente e ho sviluppato questa idea, il fischio, gli strumenti che accompagnavano il fischio, che erano tutti strumenti di fantasia, non c'entrava niente, tutte percussioni strane. La combination di instruments, di un'acquiettione, di un'acquiettione, di un'acquiettione, di un'acquiettione, è un'acquiettione, è un'acquiettione, è un'acquiettione, e cambiò la musica per il mondo.